In una follata aula palosesto Papa Francesco risponde alle domande dei religiosi e delle religiose della Diocesi di Roma nell'anno dedicato alla vita consacrata. Il Pontefice offre consigli utili per vivere il dono ricevuto nel modo più consono la chiamata di Gesù, un dono che non è un arruolamento ma il regalo di una persona. Ricorda che le suore di clausura ad esempio sono donne in tensione tra il nascondimento e la visibilità che però devono leggere la propria vita attraverso il sì detto a Dio. Devono restare collegate con il mondo e offrire il loro sorriso che dice il Papa sfama più del pane, un sorriso che fa bene anche ai sacerdoti che le vanno a confessare in monastero con quelle con la preghiera delle monache escono sempre rinnovati. Le suore prosegue sono l'icona della Chiesa e della Madonna, il loro amore materno e concreto è tenerezza e vicinanza ed è declinato in due passi evangelici, le Beatitudini e Matteo 25. Il Papa si sofferma poi sull'obbedienza che definisce l'icona della strada di Gesù, è un mistero che si comprende solo nel cammino di Cristo nell'assomigliarsi a Lui facendo i suoi stessi passi.